Cambiamo argomento, Roma è paralizzata, gli appalti sono bloccati e il lapidario, il presidente dell'ACER Nicolore Becchini, che spara a zero nei confronti dell'amministrazione in Capitolina, non si vede un cambio di passo, ha sottolineato ai nostri microfoni il numero uno dei costruttori romani. Non tutte le responsabilità poi nascono interne all'amministrazione, abbiamo un codice degli appalti, dire che è difficoltoso nell'applicazione e nella gestione è poco, una burocrazia infernale, ma poi il problema che si ha il terrore da parte del pubblico funzionario a sbagliare e quindi a dover cercare di gestire questa situazione, mille attenzioni lecite ci mancherebbe, ma poi non portano al risultato sperato qual è quello di tradurre sul territorio i pochi soldi oggi a disposizione.